Per sedurre una donna, lei parla di politica? Con lei l'ho fatto. Con scarsi risultati, glielo assicuro. Non vede dove ci incontriamo? E... L'ha baciata? Sì. E decisamente compassione. Non si è sufficiente. E che altro? Niente. Si rende conto anche lei che pretendo di più? Faccia in modo che l'imperatore accetti un incontro riservato con il conte di Cavour. Lei ordini e io eseguo. Funziona così, no? Sono sicura che quel colloquio scatenò in Nigra una profonda gerosia. Ma per ragion di stato doveva mandare giù il boccone amaro.